Ciao a tutti, sono Piero Del Prete, chitarrista, produttore, nonché ideatore di una rubrica che si chiama Guitar & Voice Show. Perché sono oggi in video qui con voi? Perché voglio chiedere di sostenere questo progetto, un progetto di realizzare un DVD, il primo DVD di Guitar & Voice in teatro. E' stato un successo di pubblico e critica. Quindi l'obiettivo di questa campagna, cui vi chiedo di partecipare come donatori, come sostenitori, è quello di fare una donazione per poter realizzare una somma di danato. Ecco l'operazione di crowdfunding, che è molto diffusa oramai nel mondo. E io ringrazio MusicRiser, questa piattaforma, perché ha deciso di valutare come positivo questo progetto. La durata di questa campagna sarà di 60 giorni, quindi noi avremo 60 giorni di tempo per poter raccogliere e con le donazioni. Vi chiedo quindi di non ridurci, come si dice, agli ultimi giorni, ma di iniziare, appena vedrete questo video, appena lo vedete in rete, di aiutare a diffondere il progetto e a reclutare insieme a me i sostenitori di questa campagna. Sei la vita mia, sei la vita mia come si dice, agli ultimo giorno, senza capire, grazie a un soráiament. Partizione di Io vi ringrazio, vi voglio bene, ringrazio quanti già mi sostengono, ringrazio tutti i nuovi sostenitori, ricordo di collegarvi alla pagina Facebook di GuidaLandBoysShow, cliccare mi piace e seguire tutti i video, soprattutto di sostenere questa campagna. Ringrazio MusicRiser, vi auguro tanta tanta felicità e buona vita. Un bacio a tutti voi. Ringrazio MusicRiser, vi auguro, ringrazio quanti già mi sostengono, ringrazio quanti già mi sostengono.